Ammontano a 14 milioni di euro le risorse stanziate dalla regione toscana per il bando sperimentale attraverso il quale 10 comuni hanno acquistato 108 abitazioni finite o in via di ultimazione e rimaste invendute da destinare a edilizia residenziale pubblica. Entro giugno, ha detto l'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli, saranno stipulati i contratti definitivi e poi le case saranno consegnate alle famiglie. Una misura concreta, innovativa per dare una possibilità alle tante famiglie che sono in gradatoria di poter avere un alloggio. Questi 108 si aggiungono a circa 1300 altri alloggi che sono stati finanziati da parte della regione per la nuova realizzazione. I 108 alloggi acquistati tramite il bando per l'invenduto della regione sono nei comuni di Bibbiena, Fucecchio, Lucca, Gallicano, Aulla, Massa, Castelfranco di Sotto, Serravalle, Pistoiese, Poggio a Caiano e Torrita di Siena.